purtroppo in questi anni il comparto produttivo è stato messo fortemente in difficoltà soprattutto nelle aree più vocate dall'insorgenza di una nuova di rosi comunemente denominata new daily anche per rike zwan lo zucchino è estremamente importante è con grande piacere che siamo qui a presentarvi la nostra nuova soluzione rappresentata dal brand dell'idefense dopo anni di ricerca ed investimenti importanti rike zwan è riuscita a sviluppare le prime varietà di zucchino resistente al virus new daily e che saranno disponibili dalla prossima campagna tunnale nella gamma dell'idefense dell'idefense rappresenta la migliore proposta disponibile per limitare e contrastare i danni dal virus e permettere così di tornare a coltivare zucchino di alta qualità e limitare il più possibile i danni per gli agricoltori la prima varietà della gamma dell'idefense è rappresentata da perseverance una varietà altamente adattabile indicata sia per la reale di coltivazione siciliano sia per quello della zona di latina perseverance è consigliata per i trapianti in ambiente protetto che vanno dalla metà di settembre fino a tutto ottobre in questi anni di ricerca condutti attraverso i maggiori areali di produzione dell'ambiente mediterraneo perseverance ha dimostrato di avere una grande resistenza ai sintomi del virus new daily grazie alla sua resistenza garantisce produzioni di elevata qualità sia per forma pezzatura e colore il frutto è cilindrico dritto senza difetti e ha una pezzatura costante la cicatrice stilare è molto piccola e questo garantisce un'elevata sanità del frutto anche post raccolta il colore è verde scuro brillante e mantiene la sua brillantezza anche alcuni giorni dopo la raccolta la pianta ha una vigoria non eccessiva perfettamente adattabile alle condizioni autunnali molto aperta e questo facilita le operazioni di raccolta in quanto i frutti sono facilmente visibili grazie alla resistenza new daily perseverance ha mediamente un ciclo di coltivazione più lungo e questo permette un maggiore ammortamento dell'investimento e una più facile gestione e riduzione dei costi dovuti alla convivenza difficile con il virus perseverance non è l'unica varietà della gamma new daily ma a breve verrà affiancata da un nuovo ibrido più precoce adatto per trapianti dalla metà di agosto fino alla metà di settembre in modo da poter dare una soluzione vincente agli agricoltori per i cicli di trapianto maggiormente colpiti dal virus new daily a brevissimo saranno disponibili anche le prime varietà per il pieno campo perseverance rappresenta per tutti il punto di partenza di una nuova era per la coltivazione dello zucchero